Assessore Paolucci, Abruzzo, Regione, Capofila, un importante progetto per la cura delle malattie rare? Sì, è un progetto pilota, è un'implementazione, è una ricerca che stanno portando avanti, un'azienda molto importante che adesso presenteremo, Nal Nailam, per quanto ci riguarda, è un'occasione di mettere al centro la nostra Regione, perché conclusa la fase del commissariamento noi dobbiamo mettere al centro il paziente. Oggi parliamo delle malattie rare, parliamo di 5.000 pazienti che nella nostra Regione sono colpite da patologie e si sentono tutto sommato purtroppo marginalizzate da un sistema sanitario che non prende in carico questo tipo di patologie, così come altre. Vogliamo innestare un percorso, una vera e propria presa in carico per quanto riguarda quel paziente, per metterlo al centro dei nostri interessi e per poter sperimentare in questa Regione un percorso innovativo. Io penso che sia un passaggio molto importante e che possa significare anche nella nostra Regione di mettersi al centro di percorsi, di implementazione, di ricerche che possono far parlare di noi anche a livello nazionale. Nel concreto cosa farete con la Regione Abruzzo? Nel concreto abbiamo discusso con tutti gli operatori del settore praticamente di un percorso preferenziale o quantomeno di un percorso rivisto che faciliti naturalmente la vita a questi pazienti che purtroppo avendo una malattia rara hanno anche difficoltà di accesso alla diagnosi, difficoltà quindi alle terapie e alla presa in carico. Quindi cerchiamo di facilitare questo percorso per i pazienti ma anche per gli operatori e per gli amministratori perché poi come vedrete dal progetto che è stato redatto dalla KPMG praticamente si vedrà anche un risparmio anche per gli amministratori e non solo perché anche i pazienti spenderanno meno e otterranno di più.